Benvenuto nel primo podcast italiano dedicato all'andrologia a cura del dottor Enrico Filippini. Ciao, sono il dottor Enrico Filippini, titolare del poliambulatorio Enrico Filippini a Brescia. In ogni puntata ti racconterò le situazioni che affronto in studio con la mia equipe, con l'obiettivo di renderti consapevole che ad ogni problema oggi c'è una soluzione. Il 31% degli uomini soffre di disfunzioni sessuali di vario grado, in prevalenza di erezione. Tutte le cause di mancanza di erezione portano ad agire negativamente su vasi, nervi e ormoni che regolano l'erezione del pene. Quindi vasi, nervi e ormoni sono i tre protagonisti e su quelli le cure devono agire. Ecco, ne parliamo in questa puntata del mio podcast di andrologia moderna, al quale collabora anche il mio collega del team dottor Tonini. Questa puntata, ricordate e preparatevi, sarà particolarmente interessante, perché è facile da capire, veloce e soprattutto efficace, nel farti prendere la decisione giusta per risolvere definitivamente il tuo problema o il tuo dubbio. E partiamo finalmente. Parliamo della cura della mancanza totale o parziale dell'erezione. Vi ricordate la puntata dedicata alla causa dell'erezione? Vi ricordate che avevamo diviso in tre gruppi gli uomini che hanno questi problemi di erezione? Il primo gruppo è quello dei giovani, giovani che hanno ovviamente un problema psicologico, che agisce sul meccanismo dell'erezione. Abbiamo dedicato una puntata a questo, vi ricordate? Ecco invece il secondo gruppo sono gli uomini che stanno facendo una cura specifica, che ha come effetto collaterale però la scarsa erezione. E quindi il terzo gruppo, il terzo e ultimo gruppo, è quello degli uomini che sono un pochettino più su con l'età, con diversi piccoli problemi che si sommano e fanno poi progredire un problema come quello dell'impotenza. Ecco quindi che nei giovani del primo gruppo ho tre indicazioni curative da dare. La prima cura è sessuale, non farmaci ma sessuale, che vuol dire di comportamento, un comportamento da modificare, di un approccio particolare da avere con la tua partner e un approccio anche con la tua testa, con la tua mentalità. Se il tuo incubo è diventata la penetrazione, lasciala perdere per un po'. Impara ad esplorare la tua partner, cercate di trovare un affiatamento e soprattutto cercate di rilassarvi insieme. Quindi imparate a scoprire le zone sensibili di entrambi, giocate e cercate anche il piacere, perché no? Anche l'orgasmo, però vi raccomando, non partite subito con l'idea della penetrazione. Ecco che, vi ricordate le manovre di Kegel? Ecco, queste manovre di questi particolari muscoli, durante i momenti che trascorrete con lei, possono esserti utili a mantenere l'erezione o comunque anche per progredire con la vostra potenzialità sia di erezione e anche di controllo dell'idea colazione. Quindi ricordatevi di fare queste manovre. Questa era la prima cura. La seconda cura è quella di venire in studio da me, dal mio collega del team, dottor Tonini, col quale abbiamo una splendida collaborazione e ti faremo una particolare terapia efficace per far ripartire in modo definitivo l'erezione. E questo lo otteniamo con che cosa? Con la ginnastica circolatoria peniena. È una tecnica, una tecnica curativa. In pratica una serie di incontri che durano circa una mezz'ora in totale privacy e assolutamente tranquilli, confortevoli, senza avere nessun disturbo. Ti facciamo accomodare nella tua stanza con il lettino e ti incolliamo delle piccole placchette con dei serbatoi. Sono grandi un paio di centimetri queste placchette e i serbatoi li riempiamo con dei principi attivi che stimolano i vasi e l'erezione. In pratica questi principi attivi attraverso un particolare metodo li facciamo veicolare al di sotto della cute dove c'è il problema circolatorio dei tuoi corpi cavernosi. Cosa senti? Non preoccuparti. Nulla. Anzi, portati il giornale o l'iPad per non annoiarti mentre agiscono i nostri ritrovati. Beh, l'effetto di questo ciclo è notevole, importante. Hai presente l'auto che non parte e che devi spingere? Ecco, in questo modo la spingi, poi metti in seconda e riparte. Come riparte la tua erezione dopo questi trattamenti? La terza cura serve invece a spezzare il problema psicologico. Se il problema psicologico è particolarmente forte, è accentuato. Ti forniamo lo strumento giusto e proporzionato al tuo problema per farti avere l'erezione giusta prima del rapporto. Noi utilizziamo in questo caso una pastiglia, un galenico. Quindi togliere la paura, farti capire che puoi farlo, che non è difficile. In pratica darti la spinta nel momento giusto, aiutarti in modo un po' artificioso ad avere l'erezione, però magari a scacciare questo chiodo che hai, che ti innesta proprio un problema molto forte, psicologico, ossessivo quasi. Ecco, è la cura che amo di meno. Cioè darti questa spinta con il farmaco nel momento nel quale tu hai la necessità non mi piace tanto, però è più facile in questo caso creare quasi una dipendenza psicologica. Però in realtà questo spesso non succede. Se seguirai bene le mie indicazioni, i miei consigli. E passiamo ora al secondo gruppo, al gruppo secondo me più facile da gestire. È il gruppo degli uomini che assumono un farmaco che interferisce con uno o più fattori dell'erezione. Ti faccio un esempio, non so, un uomo con problemi al cuore o di pressione. Ecco che bisogna calcolare come uno degli effetti collaterali di alcuni farmaci cardiologici la perdita di erezione. È indubbio. I farmaci per fluidificare il sangue non danno problemi. E neppure quelli che abbassano il colesterolo, non so, le classiche statine. Ma anche queste non danno problemi. Più insidiosi invece sono sicuramente i farmaci per abbassare la pressione o i farmaci per abbassare il ritmo cardiaco. Questo è un gruppo di pazienti che assumono farmaci, quindi i pazienti cardiologici che assumono farmaci che possono dare dei problemi collaterali con l'erezione. E poi ci sono invece i pazienti che soffrono di disturbi di ansia o di depressione e purtroppo anche in questo caso i farmaci per curare questi disturbi, queste patologie, sono complicati dalla comparsa di impotenza. Anche qui stiamo attenti. Ecco che comunque anche altre cure, non so, mi viene in mente in questo momento, le cure per diminuire il volume prostatico oppure le cure ormonali. Anche queste cure possono dare dei problemi di impotenza che si possono identificare tranquillamente come dei problemi legati al farmaco perché nel momento in cui iniziate, nei primi giorni, nelle prime settimane nelle quali iniziate la cura, ecco che compare il disturbo. Mai successo prima, ovviamente. Comunque durante il nostro primo incontro ricordati di portare nome e scatolina dei farmaci che assumi. In questo modo potremo essere sicuri che non ci scappa nessun evento avverso che condizioni la tua erezione. Cioè in pratica in questo modo mi aiuterai a chiarire bene le cause del tuo problema. E infine il terzo gruppo. Il terzo gruppo di cui avevamo parlato nella descrizione dei gruppi che soffrono di impotenza, il terzo gruppo è quello degli uomini sopra i 45, 50 anni e che spesso hanno piccoli problemi circolatori e ormonali. Cioè nelle due componenti chiave dell'erezione, i vasi e gli ormoni. Ok? Se fate parte di questo gruppo di uomini con problemi di erezione, per prima cosa il mio team vi propone una serie di accertamenti molto specifici. Sono esami ormonali, il Doppler delle arterie del pene a riposo e soprattutto il test da stimolo con le prostagrandine, il coverjet, che sono fondamentali per la diagnosi. Quindi per questo gruppo di pazienti è proprio importante fare già un percorso un po' più complesso per arrivare alla diagnosi. Ecco che per quanto riguarda invece la cura, abbiamo già parlato in precedenza dell'efficacia della ginnastica circolatoria. Effettuare un ciclo di ginnastica circolatoria è il rimedio ideale, per molti casi con ottimi risultati. Quindi ginnastica circolatoria attraverso l'utilizzo di queste placchette collegate a un elettromedicale e quindi il passaggio di farmaci che aiutano i vasi a ritornare della loro efficienza originale. Abbiamo anche però uno strumento specifico per creare nuovi vasi. Eh sì, per creare nuovi vasi. Sono le onde d'urto. Anche in questo caso, con un ciclo di onde totalmente indolore ovviamente, come quello di prima, risolviamo molti casi e diamo la possibilità di riprendere in modo naturale la funzione sessuale e in modo spontaneo, senza utilizzare più farmaci. È notevole questo strumento. I vasi che si formano, oltretutto, sono dei vasi che possiamo utilizzare anche per quei pazienti che in futuro possono avere problemi circolatori, come per esempio i diabetici. Io ho tanti pazienti diabetici che vengono a fare queste onde d'urto e vengono perché hanno paura di avere problemi sessuali negli anni futuri e quindi vogliono precedere, vogliono prevenire le problematiche. Molto interessante anche perché è una tecnica naturalissima, non si usano farmaci, i vasi che vengono formati sono dei vasi fisiologici e bella. Molto interessante, molto moderna e molto evoluta come tecnica. Frequentemente, invece, gli esami ormonali mettono in evidenza un calo fuori dalla norma di alcuni ormoni fondamentali per l'erezione. Abbiamo detto, quindi, circolazione ad ormoni. Gli ormoni, in questo caso, sono bassi. Ma a certe volte è anche meglio così perché è proprio il caso nel quale il difetto di erezione lo possiamo curare con una cura farmacologica, semplice, che permette di risolvere anche fastidiosi disturbi generali. Cioè, cosa voglio dire? Perché quando mancano certi ormoni, non solo manca l'erezione o comunque diminuisce, ma vengono a formarsi, a crearsi anche dei disturbi che magari si danno anche per scontati a 50 anni, ma che però possono essere brillantemente curati con l'ormone. Quali sono questi disturbi? Beh, possono essere anche il poco desiderio. Certo, manca l'erezione, però c'è anche poco desiderio sessuale, la scassa memoria, il sonno difficoltoso, o addirittura la tendenza ad ingrassare. Persino il colesterolo alto talvolta sono un problema ormonale. Quindi, cura ormonale, ginnastica circolatoria, onde d'urto. Quando invece i problemi sono troppi, quando dobbiamo risolvere velocemente il problema perché abbiamo una partner esigente che non ammette brutte figure, oppure quando l'ansia ha le stelle, beh, voi sapete benissimo, chi non lo conosce, in questo caso, finora, potevamo rivolgere l'attenzione, medici e pazienti al sildenafil, a tadalafil, al vardenafil, le famose pilloline dell'erezione. Una pillola prima del rapporto, ma anche la pillola del weekend. Si ha intenzione di farti due giorni totalmente rilassanti, senza programmi specifici, ma sempre pronto. Invece nel nostro ambulatorio abbiamo trovato il rimedio ancora migliore. Infatti associamo un farmaco a basso dosaggio di sildenafil a uno stimolante del desiderio sessuale. Certo, come un prodotto galenico personalizzato. Voi sapete, è vero, che i farmaci dell'erezione non agiscono sempre, soprattutto quando ci sono troppi pensieri o c'è un po' di stress o l'andropausa bloccano l'effetto farmacologico e quindi l'erezione. Ecco, questi farmaci hanno questo grosso difetto, cioè certe volte non funzionano. Ecco, io e il mio team abbiamo quindi pensato di unire il desiderio, cioè aumentiamo il desiderio sessuale, potenziando anche l'erezione. Inoltre possiamo abbassare di tanto i dosaggi, sia di uno sia dell'altro prodotto, e quindi scongiuriamo tanti effetti collaterali e soprattutto curiamo molto bene l'impotenza. E se proprio manca il desiderio, oppure i problemi circolatori o neurologici sono così gravi, da escludere le cure precedenti, quindi le cure per la circolazione, la ginnastica, le onde d'urto, oppure i farmaci uniti al prodotto per stimolare il desiderio, cioè che quando tutte queste terapie decido, o il mio collega decide che non possono essere funzionali, allora possiamo utilizzare l'infiltrazione di prostaglandina e con questa potrete condurre la vostra vita sessuale appagante, che avete sempre voluto. Per questa cura ho bisogno di proporvi un breve percorso conoscitivo da fare in ambulatorio per imparare a gestire in modo ottimale sia la modalità con cui inserirete il farmaco, sia i dosaggi, e quindi per essere in grado di avere l'erezione ideale, quella che avete tanto desiderato. Bene, hai visto quante cure? Altro che pastiglietta blu. Per ogni problema la cura giusta è soprattutto definitiva. A questo punto ti invito a iscriverti sul mio podcast o a venire a cercarmi su YouTube e sul mio sito soprattutto, Andrologia Lombarda, e mandami pure mail con domande riguardo al tuo dubbio o al tuo problema. A presto, ciao! Grazie. 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 Grazie.